Oggi abbiamo sofferto molto di più che con la Juve, eppure quella l'abbiamo persa e questa sera l'abbiamo vinta. Anche se, permettetemi di dire, abbiamo sofferto tanto la pressione, ma sempre tiri da fuori, cross molto pericolosi. Noi ci siamo presentati sette volte davanti alla porta, eppure abbiamo fatto solo un gol domenica scorsa. Quindi l'imponderabilità del calcio, a volte ti toglie, a volte ti dà. Quello che per me è importante è la continuità con cui la squadra si è espressa nello spirito. E questo naturalmente per me è il dato più confortante. Il risultato a volte è figlio di episodi. Non mi deprime se la squadra si comporta bene quando vinciamo, e non mi esalta quando magari soffriamo come oggi, però vinciamo.